Questa titorea è una farfalla del centro sudamerica, esibisce una tipica colorazione aposematica, cioè una colorazione che avverte i predatori della sua tossicità. La titorea ha lo stesso colore di avvertimento di altre specie velenose che vivono nella stessa area dove vive questa specie. Perché avere la stessa colorazione di avvertimento? Questo permette ai predatori di apprendere prima quali sono le farfalle da evitare perché tossiche. In questo modo ci saranno meno vittime da sacrificare per l'apprendimento dei predatori. Ciao da Manule Francesco dalla Casa dei Farfalli di Bordano. Più efficace è il messaggio che non può funzionare in questo modo. Va bene, andrà bene con le precedenti perché io ho perso la farfalla nel frattempo. Nei confronti dei predatori. Anche questa è troppo lunga, non ci staremo mai dentro 41 secondi.